Luciana Veschi, capogruppo Cittadini per cambiare San Giustino, mi consentirà una riflessione Veschi, il comune di San Giustino sta vivendo un vero e proprio rinascimento, lavori pubblici, affidamenti di edifici importanti a varie associazioni del territorio, ma tutte queste critiche che riguardavano l'inoperosità del sindaco Fratini, le possiamo rispedire al mitente o c'è dell'altro? È stata praticamente di fatto suggellata l'iniziativa relativa alla stazione della FCU che viene data, comunque si verrà gestita da due associazioni, l'associazione Lupe Bufali e la Croce Bianca. Innanzitutto io mi congratulo con questi ragazzi che hanno iniziato questo percorso con grande determinazione circa otto anni fa. Quindi ecco, di fatto l'intervento del sindaco Fratini è stato quello di sottoscrivere praticamente l'accordo di Enno. Devo dare merito all'assessore Manfroni perché era anche nella precedente amministrazione, si era comunque attivato per portare avanti questo progetto. Chiaramente ci sono voluti otto lunghi anni, ma è appunto un'iniziativa che anche questa fa parte proprio della precedente amministrazione. Devo dire che anche per quanto riguarda altre iniziative relative alla viabilità, ad esempio del comune proprio di San Giustino e quindi le varie rotatorie eccetera, sono tutte iniziative che sono comunque sia state promosse e poi portate avanti sempre dall'amministrazione Buschi. Bisogna innanzitutto darne atto. Quindi per quanto riguarda l'amministrazione Fratini, ecco, praticamente sta concludendo dei percorsi che sono stati iniziati, promossi, seguiti, coordinati e dalla precedente amministrazione. Ancora di iniziative proprio dell'amministrazione Fratini noi non ne abbiamo praticamente conosciute, ecco, sia in termini di viabilità, sia in termini praticamente, ecco, forse il discorso della viabilità, quella di Selci, sì, quella è prettamente l'amministrazione Fratini, purtroppo con pessimi risultati. La viabilità è sempre molto sottoposta chiaramente a critiche, però lì in effetti, toglietemi almeno questo sassolino, non è che possiamo, cioè io credo che anche all'interno dell'opinione pubblica, se vogliamo proprio anche sforzarci, non si trovano persone che possono condividere una iniziativa di quel genere. Lei dice quindi, capogruppo, che Fratini riscuote il lavoro organizzato dall'ex sindaco Fabio Buschi? Ma chiaramente io vedo che, io parlo di queste iniziative relative alla viabilità, poi altre iniziative anche in termini di cultura e turismo, devo dire che praticamente, a parte io sarei dell'idea che l'assessore alla cultura e al turismo, secondo me, deve provenire proprio da un ambiente culturale di spicco e magari farlo a tempo perso, quindi una persona che si dedica soltanto a quello, quindi con estrema disponibilità di tempo, ma deve anche rappresentare veramente una, se vogliamo, una, in effetti, deve comunque rappresentare la cultura ad alti livelli, perché altrimenti non ha senso, perché il lavoro svolto dall'assessore Cris Poltoni, che poveretta si è ritrovata catapultata ad una certa età in un ambiente che evidentemente, insomma, non conosceva, quindi non è che nessuno abbia mai avuto grandi pretese, però è il lavoro della responsabile del servizio che è la dottoressa Brizzi, quindi è una delega che secondo me sono deleghe assurde, cioè si possono praticamente investire quei soldi lì per altre cose, perché è praticamente un'attività del tutto rutinaria, senza nessuna iniziativa che comunque faccia, in un certo senso, aiutare a valorizzare appunto il nostro comune. È vero che noi siamo a confine tra due comuni, Sansepolcro e Città di Castello, che hanno avuto adesso il centenario Burri, poi c'è Pier della Francesca, però in effetti sotto il profilo culturale, sia per una serie legata praticamente proprio ai nomi dei contesti, sia anche per la valorizzazione che c'è stata appunto dai vari assessorati, diciamo che hanno delle mosse molto più, insomma una velocità diversa. Noi ecco, sono iniziative del tutto rutinarie, molto anche, ecco, se vogliamo anche, non voglio dire banali perché non voglio offendere, però in effetti, se si parla di cultura o si fa e ci si impegna a promuovere la cultura e il turismo in maniera seria, o se no lasciamo lavorare perché di fatto lavora ingregiamente la responsabile del servizio, ma le deleghe eliminiamole perché ecco... Parlava di cultura, parlava di turismo, le faccio un esempio. Villa Magherini Graziani è stata oggetto, l'anno passato, di alcune importanti iniziative, a dire il vero qualcuna di queste criticata, però sembra iniziare a prendere forma, no? Il progetto Villa Magherini Graziani come punto di riferimento di eventi. Ma io me lo auguro perché potenzialmente potrebbe in effetti essere, comunque creare anche un indotto ed essere valorizzata nella maniera appunto più giusta. Chiaramente se mancano le teste, io purtroppo non posso, cioè, ci sarebbero tante forme per poterla valorizzare. E dico la verità, fino adesso comunque anche l'amministrazione fratina non ha dato segnali. Speriamo che in seguito praticamente ci siano delle iniziative che possano comunque sia in qualche modo valorizzarla. Per carità, ecco, per ormai sono passati già tre anni, quindi siamo al terzo anno di questa amministrazione. Devo dire che sotto il profilo sia turistico che culturale è stata veramente una carenza totale. Allora io, tanto per intenderci, l'assessora alla cultura della vecchia amministrazione Buschi, la criticavo perché chiaramente lei era estremamente attiva, devo dire, con tutta una serie di iniziative che hanno saputo comunque dare al suo assessorato una connotazione politica. Perché lei aveva valorizzato, anche per esperienza personale, tutta una serie di manifestazioni di natura popolare, culturale del nostro territorio, in maniera egregia. E su questo lei è stata molto apprezzata, praticamente anche dagli altri comuni, perché era un caterpillar la Ceccarini, bisogna dirlo, cioè, lei era estremamente attiva e collaborava in maniera dinamica anche con la responsabile del servizio e con Bistoni. Qui ci troviamo al vuoto assoluto, perché tutte le iniziative sono comunque di provenienza del Comune, perché magari fa parte di una progettualità di intesa con altre, però ecco, sono eventi veramente... Adesso hanno promosso l'iniziativa valutazione a miglior tesi del territorio, con tanto di premio. Io mi auguro che, ecco, la valutazione della migliore tesi non sia in mano all'assessore, perché chiaramente, voglio dire, ci vuole anche una commissione tecnica per poter fare certe valutazioni, e l'umiltà anche, l'umiltà di sapere ascoltare anche le iniziative altrui, senza la saccenza, perché purtroppo, ecco, bisogna essere umili. Su questo l'assessore Ceccarini era molto umile, perché anche se il suo assessorato aveva una chiara connotazione politica, sapeva ben accogliere anche le iniziative che provenivano dalla minoranza.